I combattimenti sono ormai nel cuore di Kai Unis, lo dichiara l'esercito israeliano. Continuano gli ordini di evacuazione, ma l'ONU denuncia non ci sono zone sicure. Le famiglie degli ostaggi israeliani al Parlamento europeo di Bruxelles chiedono alle istituzioni dell'Unione pressioni sul Qatar per il rilascio dei propri cari. Ambientalisti contro la COP28 negli Emirati e le compagnie di gas e petrolio in Europa causano migliaia di morti. La città di Kai Unis, la principale del sud della striscia, è ora al centro dei combattimenti tra l'esercito israeliano e miliziani di Hamas. Lo ha dichiarato l'IDF, che ha aggiunto di essere nella giornata più intensa dall'inizio dell'operazione di terra. Tra lunedì e martedì ci sono stati pesanti bombardamenti e combattimenti nell'area meridionale, ma anche a Gaza City e nel campo profughi di Jabalia, dove le forze israeliane hanno detto di aver preso controllo di postazioni militari chiave. Israele continua a ordinare ai residenti di Kai Unis di dirigersi più a sud, lanciando volantini sulla città. Molti civili avrebbero iniziato a fuggire verso la zona indicata, ma le agenzie ONU denunciano. È un lembo di terra arida, senza acqua, ripari e servizi igienici. Il bilancio delle vittime è salito a quasi 16.000 persone, mentre l'IDF ha dichiarato che i soldati israeliani uccisi sono 82. Intanto Hamas continua a lanciare razzi su Israele. Si registra solo un uomo ferito dai frammenti di un razzo intercettato a Tel Aviv. Le famiglie di alcuni dei 137 ostaggi israeliani ancora detenuti nella striscia di Gaza sono a Bruxelles, dove sperano di ottenere dalle istituzioni dell'Unione Europea pressioni diplomatiche sul governo del Qatar, che sta al momento mediando tra Hamas e Israele per il rilascio dei prigionieri in cambio di tregue nei bombardamenti. Fra le persone rapite c'è Alon, catturato durante l'irruzione dei miliziani di Hamas nel kibbutz di Kfarazah. Suo fratello Jonathan racconta a Euronews i momenti terribili dell'attacco del 7 ottobre. Most of the security team got hit, and there are like 100 terrorists inside the kibbutz. And I should lock myself inside the safe room and pray. And in 10 o'clock, my younger brother Alon sent me a message that he hear terrorists go inside his house. He said that he's sitting quietly in his safe room, and he hear them coming. Inizialmente la famiglia credeva che Alon fosse stato ucciso, ma dopo una settimana è stata informata del rapimento. Da allora nessuna novità. Anche Yanit Askenazi si è recata a Bruxelles per chiedere il rilascio della sorella trentenne, Doron Steinbecher. Durante l'attacco di Hamas, mentre Yanit proteggeva i suoi due bambini piccoli, Doron, che viveva da sola, si nascondeva sotto il letto di casa sua, fino a che i miliziani non l'hanno trovata e portata via. We get messaged that there are a lot of terrorists in the kibbutz, and I immediately spoke with my sister, and she said that she's afraid, that she's under the bed in the safe room because she was by herself. And in 10.20, she spoke with my mom. She told her how much she's afraid, that she heard the terrorist come inside her home, inside her house. She was very crying, she was very terrified, and the call cut off in the middle. La famiglia al momento non ha informazioni su Doron. Non sanno nemmeno se le è stato concesso o meno di assumere i farmaci di cui ha bisogno. Come gli altri parenti degli ostaggi, sperano in un rilascio il prima possibile. Nuove proteste martedì alla COP28 a Dubai. Per gli attivisti presenti al vertice non si sta facendo abbastanza per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili. Un passo necessario, secondo gli esperti, per limitare il riscaldamento del pianeta. The progress is very slow and we all know that there is a huge conflict of interest which is seen in this land and we can also see how people's voices are being suppressed. We are in an oppressive COP. Period. That is what it is. Manifestazione clamorosa anche a Roma dove i membri di Greenpeace hanno scalato la sede dell'ENI. Una ricerca dell'ONG appena pubblicata attribuisce all'inquinamento causato da nove aziende europee del settore petrolio e gas, tra cui l'ENI, la possibile morte di 360.000 persone entro la fine del secolo. Le piogge autunnali danno un po' di sollievo al Parco Nazionale di Doniana e Rossio, ma l'acqua che inonda la palude sono un ricordo lontano. Le zone umide sono a secco. Appena tiene agua il 2% delle marismas. Il resto delle marismas, il 98%, è assolutamente secca debido in parte alla falta di precipitazione e l'acquifero ha sido espoliato di tal maniera che già non descarga agua sull'arroyo. L'ultimo censimento rivela che gli uccelli, che di solito si fermano in queste paludi durante la migrazione invernale, si sono pressoché dimezzati di numero. Stiamo sacando molta più agua di quella che realmente disponiamo. La riduzione delle precipitazioni e l'eccessivo sfruttamento della falda acquifera per la coltivazione di fragole, in molti casi attraverso pozzi illegali, hanno portato il Parco Nazionale sull'orlo del Collasso e l'UNESCO ha preso in considerazione la possibilità di ritirare il riconoscimento a Doniana di patrimonio dell'umanità. Ora le amministrazioni spagnole hanno presentato un piano da 1 miliardo e 400 milioni di euro per salvare la zona umida. Il nuovo plan prevé la sostituzione di alcuni di questi invernaderi per coltivi del secano o devolverli i terreni a sua situazione originale. Gli agricoltori di Doniana riceveranno fino a 100 mila euro per l'abbandono delle colture, ma in molti mettono in dubbio la reale portata della misura e si assicura che solo riducendo il volume di estrazione della falda acquifera l'acqua tornerà a scorrere verso Doniana. Il cambiamento climatico potrebbe essere la vera minaccia per il parco nazionale. Il futuro di Doniana si sta decidendo in questi giorni anche al vertice sul cambiamento climatico di Dubai. Solo la riduzione dei gas serra può restituire a questa zona umida il suo antico splendore. Infiammano le proteste al confine tra Polonia e Ucraina da parte delle aziende polacche per il trasporto delle merci su strada. Il blocco contro i camion ucraini ha creato lunghe code causando notevoli disagi peggiorati dalle dure condizioni meteo. I tempi di attesa per varcare la frontiera possono essere di settimane. I volontari hanno fornito cibo agli autisti bloccati. Artom è ucraino e da anni vive in Polonia. I trasportatori polacchi si oppongono all'abolizione dei permessi per l'ingresso degli autisti ucraini nell'Unione Europea. I proprietari delle aziende di trasporto polacche sostengono che l'abolizione delle restrizioni ha causato ingenti danni economici alle loro attività. Un'altra importante questione riguarda la decisione della Commissione Europea di abolire le restrizioni sul numero di camioni in transito tra l'Ucraina e l'UE che sono state modificate per aiutare l'Ucraina dopo l'invasione russa. It has already been a month of protests at the borders with Ukraine and in recent days Poles have also been joined by truck drivers in Slovakia. Magdalena Khodovnik for Euronews from the Rochusk. Gli studenti di tutto il mondo mostrano un peggioramento senza precedenti nel loro rendimento scolastico. A rivelarlo l'ultimo rapporto CSE-PISA del 2022 un'indagine triennale condotta sui 15 anni dei Paesi membri e di Economie Partner in questa edizione 81. Con quasi 700.000 studenti valutati il rendimento medio è sceso di 16 punti in matematica e di 11 punti in comprensione del testo. stabili i risultati in scienze. La prima spiegazione ovvia sulle cause di questo calo è l'impatto del Covid-19 ma l'analisi dei trend rivela che i risultati hanno iniziato a diminuire ben prima della pandemia. L'Asia in generale con Singapore in testa con 575 punti si distingue ancora una volta per i risultati ottenuti dai suoi studenti. Seguono Macau, Taiwan, Hong Kong, Giappone e Corea del Sud. Al settimo e ottavo posto subentra l'Europa con l'Estonia e la Svizzera. seguite dal Canada e dai Paesi Bassi. Anche l'Italia ha visto un peggioramento dei suoi risultati ma per la prima volta il rendimento in matematica è in linea con la media OCSE. Migliaia di persone sono accorse a Padova per salutare un'ultima volta Giulia Cecchettin di 22 anni il cui omicidio per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta ha sconvolto l'Italia. In migliaia hanno agitato chiavi e campanelli per fare rumore e far capire che la società non rimane indifferente di fronte alla violenza sessista e ai femminicidi. Il corpo di Giulia è stato ritrovato il 16 novembre scorso. Turetta aveva tentato la fuga in Germania ma ha confessato il delitto alle autorità tedesche e dopo una breve detenzione è stato trasferito in carcere in Italia. Si aggrava il bilancio delle vittime dopo l'eruzione del monte Merapi sull'isola indonesiana di Java di domenica 3 dicembre. Recuperati oggi altri 9 corpi per un totale di 22 vittime. Lunedì ne erano stati recuperati 3 tutti escursionisti sul luogo per scalare il monte. L'evento ha dato vita ad una colonna di cenere alta circa 3.000 metri i cui detriti sono presto ricaduti su tutti i villaggi situati ad est del monte. Le autorità hanno messo un'allerta di livello 3 con divieto di avvicinamento entro un raggio di 3 chilometri.